Fervono i preparativi per l'evento del 15 dicembre quando la Santa Messa delle ore 10.55 verrà trasmessa in diretta dal Santuario della Madonna dei Miracoli su Rai 1. Da qualche giorno si sta procedendo alla pulitura straordinaria del Santuario della Madonna dei Miracoli per ridare luce agli stucchi e agli ornamenti che rendono la Chiesa Madre il maggior tempio della città. Capitelli, colonne, ninfe, il lampadario centrale, tutto tirato a lucido per risplendere ed arricchire di bellezza agli occhi dei numerosi telespettatori che domenica si collegheranno per partecipare alla Santa Messa. Domenica 15 dicembre si apre ufficialmente l'anno Santo Mariano e sarà un anno ricco di eventi all'insegna dell'unità e della preghiera. Quest'anno ricorrono i 400 anni dalla sudorazione della Santa Vergine che da sempre protegge gli amastratini. Una comunità, quella di Mistretta, che in questi giorni è in fermento e che si vuole preparare al meglio per far conoscere la vera immagine di una cittadina fatta di bellezze architettoniche e storiche senza eguali e di gente onesta per la maggior parte a cui va stretta l'etichetta di città mafiosa.